Noi raccontiamo delle storie sostanzialmente, sono le storie di gente che ama l'arte, ama la storia, ama i bei luoghi, ma ovviamente voi siete i nostri interlocutori, altrimenti non ci sarebbe narrazione. Qui sopra non ci sono sfilate, non ci sono passerelle, qui sopra ci sono vite, vite pulsanti. Per noi di Armonia d'Arte il concetto di insieme è fortissimo. E allora io vi chiedo questa sera di essere anche voi qui sul palco. Certamente è una visione un po' particolare dire siete anche voi qui sul palco, ma avete la stessa importanza degli artisti. Siamo tutti protagonisti dello spettacolo, di Scolacium e di un bel percorso, un bel pezzo di strada positivo per questa terra. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.